Bene, riprendiamo i lavori, lo avevamo annunciato, Leonardo visto da più punti di vista, siamo già stati debitamente spiazzati dal primo intervento, oltre che dalla intervista impossibile a cui abbiamo assistito poco fa. Ora uno scrittore iperaffermato, ma anche un chimico, membro onorario del CICAP, che ci pone un interrogativo. E se Leonardo fosse stato un detective? Lascio a te il compito, Marco Malvaldi, che tutti conoscete, di accompagnarci dentro le pieghe di questa domanda. Grazie. Buongiorno a tutti, salve. Oggi partiamo da questa piccola provocazione, e se Leonardo fosse stato un detective? Io parlerò e basta, non ci sono audiovisivi, non ci sono filmati, e questo per due ragioni. Una ve la dico subito, e l'altra ve la dico alla fine. La prima ragione, ve la dico subito, ho visto Aula Magna, Palazzo Bo, e mi ricordavo questa disposizione. Per cui ho detto, le persone che sono dietro, lì, non vedono una mazza, quindi sarebbe veramente maleducato. La numero due la vedremo dopo. Ma cominciamo subito col dire, e con il partire da questo primo assunto, se Leonardo fosse stato un detective, o meglio, se Leonardo si fosse trovato nella situazione di dover investigare su un caso criminale, su un caso, mettiamo subito le cose in chiaro, di omicidio. Noi non ci muoviamo, noi giallisti non ci muoviamo per meno di un morto ammazzato, meglio due, magari tre. Se Leonardo avesse dovuto risolvere un caso di omicidio, beh, sarebbe stato molto, molto, molto nei guai. Perché non avrebbe avuto a disposizione nessuna delle tecniche che noi abbiamo oggi, non avrebbe avuto a disposizione le impronte digitali, non avrebbe avuto a disposizione nemmeno la possibilità di capire se quella data macchia su un tessuto era di sangue, oppure di ruggine, oppure di fango, oppure altro. In uno dei primi racconti di Sherlock Holmes, mi sembra il primo, uno studio in rosso, noi conosciamo Sherlock Holmes, proprio nel suo laboratorio chimico, intento a mettere a punto un saggio che reagisce con l'emoglobina anche in caso di sangue secco, anche in caso di sangue molto, molto vecchio. Quindi, e qui siamo a fine ottocento. Soprattutto Leonardo avrebbe avuto un grossissimo problema, un grossissimo problema a determinare l'ora e la causa della morte del Decuius. Se si fosse trovato di fronte un cadavere, di che cosa è morto e a che ora è morto? Beh, parliamone proprio tranquillamente. Avrebbe potuto, per esempio, come si fa il giorno d'oggi a identificare l'ora della morte di una persona? Si prende un termometro e si prende la temperatura auricolare o di altri posti più nascosti e si misura come cade la temperatura nel tempo e si inferisce una temperatura basale di 37 gradi e si cerca di capire dove è lo zero. Quindi, avrebbe potuto Leonardo misurare la temperatura di un cadavere? No. Perché? Perché manco sapeva cosa fosse la temperatura. Il concetto di temperatura ai tempi di Leonardo è assolutamente ignoto. Dovranno passare circa 200 anni. Ci vorrà le basi della, diciamo, della meccanica e poi ci vorranno gli studi dei termodinamici che metteranno in relazione quella che è la, diciamo, l'energia cinetica dei corpi con questa strana misura, la temperatura. Soprattutto, però, anche determinare la causa della morte sarebbe stato molto, 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 molto difficile. E qui entriamo veramente nel campo di Leonardo. Perché? Perché se vogliamo parlare di cose che Leonardo non avrebbe potuto fare, possiamo stare qui 40 minuti. Quello di cui ci occupiamo ora è una visione che Leonardo aveva e che sarebbe stata raggiunta solo parecchi anni dopo. Per la precisione, fra 300 e 400 anni dopo. Perché? Partiamo dal futuro, se vi va bene, e poi arriveremo al passato, poi arriveremo a Leonardo. Partiamo dal futuro partendo da due signori, due signori austriaci, o meglio, austro-ungarici, perché l'epoca è il 1844 e queste persone lavorano a Vienna. Una delle due si chiama Skoda, come le automobili. L'altro si chiama Rokitansky, forse è una marca di trattori. Skoda e Rokitansky sono allievi, particolarmente Rokitansky, di un grandissimo italiano. Il tema scelto è, il tema di cui parliamo, deve in qualche modo la sua scelta alla città dove ci troviamo, che è Padova, perché si parlerà di medicina. E Skoda e Rokitansky sono due medici, due grandissimi medici, e sono allievi di un grandissimo medico italiano che si chiama Giovanni Battista Morgagni. Giovanni Battista Morgagni è una persona che ha avuto un'intuizione geniale, che oggi ci sembra scontata. Giovanni Battista Morgagni dice, facendosi ridere dietro più o meno da mezza Europa, che la malattia non è dovuta a uno squilibrio dei fluidi, ma è dovuta allo scompenso di un organo. È dovuta al malfunzionamento di uno dei tanti pezzi diversi, differenziabili e distinguibili che ci sono dentro il nostro corpo. Morgagni si rende conto, per primo, facendo dissezioni di cadaveri che agli stessi sintomi non sono correlati le stesse condizioni degli organi interni. Dice, guarda, tu puoi essere giallo perché hai un fegato grosso così, oppure puoi essere giallo perché hai dei reni piccoli così. Le due cose non sono allo stesso sintomo, alla stessa apparenza dei fluidi, non corrispondono organi che sono malati nello stesso modo. Per cui dice, proviamo a fare questa cosa rivoluzionaria, proviamo a cercare di capire se è vero che la malattia è causata dal malfunzionamento di un singolo organo. E per fare questo Skoda e Rokitansky utilizzano un approccio che per la prima volta in medicina si può dire veramente scientifico, un approccio di correlazione di causa-effetto in modo sistematico. Cosa fanno Skoda e Rokitansky? Rokitansky è un anatomopatologo, una persona che prende le persone una volta morte ai loro, le disseziona e osserve e descrive gli organi interni. Skoda invece è un clinico, Skoda visita le persone. Skoda e Rokitansky nella Vienna di metà 800 hanno una possibilità, avendo a disposizione un ospedale civile e militare enorme, hanno la possibilità di visitare un paziente quando è vivo e poi di andarlo a dissezionare quando è morto e quindi di mettere in relazione quelli che sono i sintomi del paziente vivo con quello che è l'aspetto del paziente si spera morto a quel punto. Qui viene fuori un caso di dato mancante. Se il paziente muore però si possono mettere in relazione quelli che sono i sintomi con quelle che sono le apparenze degli organi. Per capire in tutti i modi possibili in cui si può analizzare un paziente quando è vivo, Skoda non si limita a osservare i colori, a sentire se il paziente è caldo e freddo, se è spelle sangue, se è spelle muco, si inventa anche degli aggeggi particolari. Uno di questi lo usiamo ancora oggi, si chiama stetoscopio. Con lo stetoscopio Skoda ausculta i polmoni per sentire se ci sono liquidi, ascolta il cuore, questo è uno dei contributi principali di questi due dottori, Skoda ascolta il cuore e riesce a distinguere non solo i battiti ma anche i toni, il primo e il secondo tono cardiaco e riesce a mettere in relazione, è una cosa che si dibatte ancora oggi per certi versi, il cosiddetto sdoppiamento del secondo tono con alcune particolari malformazioni cardiache. Skoda sente il cuore che batte in un certo modo, Rokitansky apre i pazienti e vede che in certi pazienti in cui il cuore batte in un certo modo la valvola aortica non si chiude bene, la valvola mitralica non si chiude bene e quindi si iniziano a mettere in relazione suoni, aspetti del paziente vivo con gli aspetti degli organi del paziente morto. Ora che cosa c'entra tutto questo con Leonardo da Vinci? Tutti noi conosciamo bene o male i disegni anatomici di Leonardo da Vinci, i disegni sono incredibili e sono spesso dissezioni, rappresentazioni di cadaveri nei quali vediamo molto bene rappresentati quelli che sono i singoli organi, quelli che sono i singoli elementi. Leonardo disegna gli arti e disegna, mette in evidenza i tendini e i muscoli, non solo mette in evidenza una cosa che poi l'anatomia si scorderà per qualche secolo, mette in evidenza il tessuto miofasciale, la fascia, quella guaina elastica che ricopre i tessuti e che sta fra fibra muscolare e fibra muscolare, che in realtà ha un'importanza enorme a livello proprio scettivo e che Leonardo osserva essere più elastica del muscolo e quasi simile a quella del tendine, che lui chiama ligamento, indifferentemente dal fatto se colleghi fra loro un osso e un muscolo oppure due ossa. Leonardo rappresenta cuori e a volte osserva e disseziona cuori di maiale per capire come si aprono e si chiudono le valvole, prima pompandoci dentro liquido e poi provandoci a soffiare dentro, non doveva essere una persona che soffriva di disgusto Leonardo. Vediamo nelle rappresentazioni anatomiche di Leonardo feti, vediamo rappresentazioni di organi genitali, vediamo una bellissima rappresentazione per esempio del coito nel quale l'uomo è dentro la donna e i testicoli sono collegati, il pene è collegato da una parte ai testicoli e da quell'altra al cervello, è un qualcosa che da parte delle donne potrebbe dare adito a battute orrende, perché molti dei particolari anatomici che Leonardo mette non sono particolari osservati, sono particolari inferiti. È il modo in cui Leonardo crede che le cose siano, non è il modo in cui le cose sono realmente, il modo in cui le cose possono essere viste realmente. Non so quanti di voi hanno mai fatto un'autopsia, c'è qualche medico in sala? Oh, salve. Allora, avete fatto autopsie, ho assistito autopsie. Allora, voi sapete, e chi non lo sa si deve fidare di me e di loro, che il modo in cui si effettua un'autopsia è determinante nel vedere poi cosa si mette a nudo. Se uno vuole per esempio vedere queste catene miofasciali nel corpo, per esempio quella che è la cosiddetta catena miofasciale posteriore, quella che unisce il mio scalpo ai miei talloni e che si può avvertire meccanicamente se io piego la testa e sento una lieve tensione ai talloni, beh, una delle prime operazioni autoptiche che si fanno, che è quella di rimuovere il tessuto miofasciale grattando, diciamo, va un po' a discapito. Solo nei primi anni 70 Thomas Myers ha cominciato a fare dissezioni anatomiche per mettere in evidenza quelli che sono i tessuti miofasciali. In più, quando aprite un cadavere, il cadavere non si presenta come nel libro del Netter, bello, pulito, fantastico, con tutti gli organi al loro posto, bellini e riconoscibili. Di solito è più simile a un budino cotto male. Io ho fatto la tesi di laurea in chimica e andavo a mangiare con due mie amici che erano entrambi anatomopatologi e che si lamentavano di non avere abbastanza morti, dicevano al giorno d'oggi la gente non muore più e cosa di questo genere, perché non avevano abbastanza materiale di studio. Fare un disegno anatomico, avendo a disposizione un cadavere, non è un qualcosa che viene automatico, è necessario un grosso spirito di osservazione, è necessario un grosso spirito di una grossa capacità di inferenza per immaginarsi quello che c'è. Molti dei dettagli, alcuni, parecchi dei dettagli anatomici che troviamo appunto nei disegni di Leonardo sono semplicemente sbagliati. Se torniamo al disegno di cui si parlava prima, quello del coito, perdonatemi se ci insisto, ma la possibilità di parlare di accoppiamenti in questa sala meravigliosa è una provocazione troppo bella per resistere, ci sono due particolari sbagliati, entrambi non possono essere in qualche modo che Leonardo non poteva sapere. Uno appunto è questo collegamento tra i testicoli e il cervello, collegamento, abbiamo detto, più metaforico che il reale. L'altro è il fatto che vediamo il membro dell'uomo diritto, quasi diritto, mentre in realtà quando questa cosa capita l'oggetto in questione è piegato quasi a 90 gradi, è una cosa che hanno scoperto solo nel 2000 e l'hanno scoperta in un modo molto particolare, prendendo due acrobati del circo e mettendoli a trombare nell'NMR, nel tubo della risonanza magnetica. Dopodiché a un certo punto gli hanno detto, state fermissimi per cortesia, vi facciamo una foto e tac. È uno studio che è valso la vittoria del premio IG Nobel ai due medici olandesi che lo hanno proposto. Perché è importante sottolineare questa cosa? Beh, se noi vediamo tanti disegni anatomici di Leonardo, possiamo pensare che li abbia ottenuti dissezionando dei cadaveri, ma ci sono casi in cui questa dissezione appare è improbabile il disegno del feto nel grembo materno. Possibile che Leonardo abbia dissezionato una donna incinta? Possibile. Le donne, si sa, non avevano anima all'epoca, ma molto, molto, molto improbabile. Possibile che abbia preso due amanti nel corso dell'atto, li abbia congelati e dissezionati con una katana laser? Molto, molto, molto più, molto, molto, molto più difficile. È un qualcosa che avrà fatto basandosi sulla strazione, sulla capacità di ricostruire all'interno del corpo, sulla base di quello che sapeva. E questo è il punto fondamentale. Leonardo è il primo che nella sua epoca capisce che cosa si deve guardare. Se si vanno a guardare i disegni anatomici di epoca pre-leonardiana e per molti anni post-leonardiana, i disegni anatomici dell'epoca sono semplicemente ridicoli. Vediamo omini al posto degli organi, vediamo cuori di dimensioni di dimensioni spropositate, quando si degnano di mettere il cuore. L'intestino non è praticamente considerato. Alcuni organi non compaiono, perché gli organi devono essere sette, come i pianeti, la roba che è in più, chiaramente, non serve. E la posizione non importa, vediamo cuori qui. Il cervello è un qualcosa il cui funzionamento non è chiarissimo e sarà chiaro, comincerà a diventare chiaro solo un po' di tempo dopo. Perché il primo, dopo Leonardo, che inizia a fare tavole anatomiche un po' più, diciamo, realistiche, tavole anatomiche basate sugli organi, si chiama Andrea Vesalio, è un vero medico lui, e avrà modo di curare o di assistere alla morte di personaggi famosi, fra cui il re francese Luigi XIV. Allora, che cosa succede? Il fatto è che Leonardo riesce a capire qual è la risoluzione giusta per guardare l'uomo. Avrebbe potuto fare analisi chimiche? Beh, all'epoca no. All'epoca gli atomi non avevano ancora dignità di esistenza e la chimica era per certi versi una rozza alchimia che una volta ci coglieva e venti volte no. Quello che poteva fare con i suoi mezzi, che erano principalmente i suoi sensi, era guardare gli organi. Era il grado di risoluzione più indovinato, più adatto che aveva a disposizione. E questo Leonardo fa. In questo, per questo motivo, attraverso lo studio di come Leonardo ricostruisce i cadaveri, capiamo molto del motivo per cui Leonardo è chiamato, in un certo senso, l'ultimo scienziato prima della scienza. Perché Leonardo parte da due principi. Per quale motivo Leonardo studia l'anatomia? Vuole capire come funziona un corpo umano? Sì. Ma il funzionamento deve essere il funzionamento della sua dinamica. L'interesse di Leonardo è capire come si muove un corpo umano, come esprime forza. Cercare di capire se si ritrae una persona che è nella stessa posizione ma che sta posando un oggetto, sta sollevando un oggetto, la pelle, dice Leonardo nel suo trattato di pittura, si piega in modo diverso e quindi diverse sono le forze che esso esercita. Leonardo cerca di capire il movimento perché il segreto, il segreto del mondo in Leonardo sta in questa semplice frase. ogni cosa col tempo va cambiando e comprendendo detto secreto capirà il mondo. Ogni cosa col tempo va cambiando e comprendendo tale cosa capirà il mondo. Leonardo capisce che se si riesce a descrivere il movimento, il modo in cui cambiano le cose nel tempo, si è capita la loro intima natura. E noi oggi, noi che facciamo fisica, chimica e biologia, mettiamo molto spesso questo come principio centrale. I fisici scrivono quasi sempre equazioni differenziali, equazioni, regole che cercano di capire come varia una cosa nel tempo a partire da come è messa nello spazio, a partire da come sono costruiti i meccanismi che la compongono. I biologi cercano di capire l'evoluzione, cercano di capire oppure lo sviluppo di un corpo oppure il decorso di una malattia, cercano di capire come un qualcosa evolve nel tempo a scale temporali differenti, oppure come si organizzano colonie di enti differenti, che siano batteri o elettori o altre cose di questo genere. Ho detto elettori perché ultimamente tutti noi dovremmo essere studiati molto più dai biologi che non dagli studenti comportamentali. E in questo senso Leonardo ha due pinze intellettuali. Una è appunto questa, le ipotesi e i fatti. Leonardo deve accettare i fatti, dice che se un qualcosa non contrasta con la tua teoria allora è la tua teoria essere sbagliata e cerca di mettere d'accordo ipotesi e fatti con la pinza della spiegazione. Se le cose riescono a essere spiegate, il fatto ricollima con l'ipotesi, allora sei riuscito a spiegarlo. Lo fa in maniera rozza perché non ha e non padroneggia la matematica. La matematica di Leonardo è molto povera ed è questo uno dei motivi per cui non possiamo definire Leonardo uno scienziato. La matematica di Leonardo è veramente veramente povera e poco affidabile. Per darvi un esempio, Leonardo da Vinci scrive a un certo punto in uno dei suoi manoscritti che un mezzo più un mezzo è uguale a due quarti, cioè un mezzo più un mezzo è uguale a un mezzo. Non è così. Se lo scrivete oggi in prima media vi rincorrono. Fa errori di algebra e di calcolo delle frazioni elementari. Tenterà per 60 volte di quadrare il cerchio con riga e compasso. A un certo punto per disperazione scriverà in un angolo di questo foglio, io mi figuro che questa impresa fia impossibile. Non lo sapeva ma aveva ragione. L'area del cerchio con riga e compasso non si può trovare. Ferra ha dimostrato mi sembra nel 1838. Leonardo non ha la matematica che è l'unica operazione, l'unica branca del pensiero che ci permette di formulare ipotesi e di confutarle o verificarle in modo meno ambiguo, perché la matematica ci permette di assegnare un rango. Tu mi puoi convincere a discorsi che la luna è fatta di formaggio, ma prova a convincermi a discorsi che 3 è minore di 2 e se ci riesci sei veramente bravo. Però è il primo che vede la direzione giusta in cui andare. Capire il movimento e accettare i fatti. Sembrano due cose ovvie. All'epoca di Leonardo sono cose rivoluzionarie. Accettare i fatti, cioè accettare che l'esperienza dei sensi sia la verità e che abbia il principio, abbia il vantaggio su quello che ci viene in testa, è un qualcosa che dopo Aristotele ci eravamo scordati molto spesso di applicare. Quindi se Leonardo avesse dovuto confrontarsi con un caso criminale, probabilmente sarebbe stato veramente nei guai, ma al tempo stesso probabilmente dalle sue lucubrazioni sarebbe nato qualcosa di meraviglioso, perché l'uomo giova a ricordarlo, anche se spesso gli affibbiamo capacità che non aveva, era a mio giudizio veramente un genio. Io mi fermerei qui se ci sono alcune domande e fatele pure liberamente. Per il momento vi ringrazio della vostra attenzione. seconda fila al centro. La matematica di Leonardo appunto era molto primitiva, ma per quale motivo? perché Leonardo non aveva potuto fare studi di matematica o perché ancora doveva evolversi la matematica con i sistemi di calcolo più moderni? Allora, entrambi i motivi in realtà. Leonardo inizia la sua formazione, diciamo così, scientifica a Firenze con Paolo del Pozzo Toscanelli, che è un fisico e a Leonardo interessa la fisica, non tanto la matematica. Poi la matematica dell'epoca è ancora piuttosto rozza, cioè siamo ancora prima, Leonardo è coevo ma anteriore a Girolamo Cardano, che è la persona che risolve, trova la formula per la risoluzione delle equazioni pubiche e quartiche. La matematica di Leonardo è poco studiata nella prima parte della sua vita, conosce proprio l'abaco per intendersi, arriva alle moltiplicazioni. Si evolve un po' quando conosce frate Luca Pacioli a Milano, collaborerà con Luca Pacioli a Milano, farà le illustrazioni della summa di aritmetica e geometria e all'età di 40 anni si metterà a studiare matematica sul serio. Per esempio, Leonardo ha un concetto della matematica, quando capisce che cos'è la matematica, ne ha un concetto molto più simile a quello che è la nostra matematica di oggi che non della matematica dei suoi impi suoi. Per esempio, dà centrale importanza al concetto di dimostrazione. Scrive testualmente che dimostrazione è costruzione di nuovo oggetto da vecchie fondamenta, et se corretta, eterna e se sbagliata, nulla. Quindi ha una visione della matematica che è quella corretta, però da un punto di vista operativo è già un'equazione di secondo grado e Leonardo batteva la testa nello spigolo, letteralmente. Quindi è una commistione di tutte e due le cose. Quando scoprirà la matematica dei suoi tempi si metterà a studiarla, ma più come interesse intellettuale che come interesse pratico. Per esempio, Leonardo ha fatto moltissimi studi sull'effetto che l'incidenza degli angoli ha sulla riflessione della luce, sul modo in cui cambia la luce a seconda di come si mettono le sorgenti, ma non c'è un singolo accenno di trigonometria negli scritti di Leonardo. Si parla solo di angoli e qualsiasi funzione dell'angolo è messa di là. Bellissima maglietta. Grazie. Abbiamo ancora spazio per una domanda. Sulle mani, laggiù. Il secondo motivo per cui non hai mostrato immagini o video. Oh, grazie! Che bello avere tutta questa attenzione. Il motivo è proprio che Leonardo, quando uno degli autori di cui si innamora, è tale Nicola Cusano, filosofo, filosofo ahimè mai troppo studiato, che andrebbe parecchio ripreso, che dice che la mente dell'uomo è simile a Dio. Perché? Essa è in grado di creare oggetti che non esistono e di comportarsi come se esistessero, facendoli interagire e financo riprodurre fra loro. Leonardo sostiene che l'essere umano ha una capacità che gli altri animali non hanno, che è la capacità di astrazione, di usare oggetti che non esistono e di combinarli insieme per creare altri oggetti che fanno capire meglio come esiste il mondo. Leonardo dice che una donna dipinta su una tela non è una donna, eppure il cane padrone di quella donna riconosce quella donna e inizia a fare le fusa come se vedesse la donna stessa. Quindi si può attraverso l'uso di oggetti astratti arrivare a quella che è una più profonda conoscenza. Io qui ho voluto usare solo le parole perché ho voluto che ognuno di noi si immaginasse nella testa esattamente le immagini, le oggetti, le persone di cui stavo parlando. Non volevo farvi vedere il mio Leonardo o la figura del coito o altre cose, perché volevo che ve le immaginaste, che usaste la vostra capacità di astrazione, che è la nostra reale capacità. Quando la usiamo correttamente, dobbiamo ricordarci sempre che ha una potenza mostruosa e dobbiamo ricordarci sempre che la sua regola, la sua potenza sta nel fatto di utilizzarne bene le regole, non di vederne l'aspetto superficiale. La parola capra non assomiglia a una capra e non si può mungere, però se io dico capra a lei, lei vede una capra e sa tutte le cose che si possono fare con una capra. Bisogna andare un livellino più in là. Io non ho proiettato immagini per questo, perché così tutti noi ci siamo potuti proiettare il nostro film mentale nella testa e, secondo me, seguire un pochino meglio quello che veniva detto. Forse è una mia pia illusione, ma io ho voluto fare così, in spirito leonardesco. Grazie.